Questo è un luogo simbolico dove noi abbiamo dato la prima dimostrazione che ci sono cittadini e cittadini italiani che rifiutano le politiche razziste di questo governo e immaginano un'altra Europa aperta all'accoglienza dove venga assicurato il diritto di spostarsi di tutti gli esseri umani. Questo è un luogo simbolico perché ha rappresentato la battaglia contro il sequestro di persone che il governo faceva sulla 18, ma è anche un posto simbolico perché rappresenta una delle infrastrutture più importanti che abbiamo in Sicilia e che non viene per nulla valorizzata dal punto di vista turistico, dal punto di vista occupazionale. Quindi abbiamo scelto il porto per questo motivo simbolico, non potevamo che partire da qui con la campagna elettorale per la sinistra. 11 punti per cambiare l'Europa e la nostra vita sono gli obiettivi del programma della lista alla sinistra alle prossime elezioni europee che questa mattina al porto di Catania ha presentato i suoi candidati. Un lavoro per tutti, investimenti nel futuro del pianeta, un'Europa femminista e senza discriminazioni, stop ai paradisi fiscali, basta con l'austerità e il neoliberismo. E ancora un nuovo modello per lo sviluppo del meridione, no all'Unione Europea dell'elite, dei tecnocrati, degli accordi tra governi, no agli accordi commerciali penalizzanti, per un commercio più equo e sostenibile. E ancora tutelare i diritti dei migranti, salvare le vittime dei naufragi, costruire un futuro degno per tutti. Investimenti per l'istruzione pubblica e la cultura e infine un'Europa in pace e di pace per difendere i diritti umani con la cooperazione internazionale, il disarmo, la diplomazia dal basso. Guardate i giornali di oggi sulla linea Genova-Trapani. Il governo del cambiamento è ancora il governo della corruzione, la corruzione che è la grande incubatrice delle mafie. che fra l'altro questo sottosegretario Siri era amico di Arata, il quale è amico addirittura di un prestanome, di uno che ha favorito Matteo Messina Denaro. Noi siamo per l'alternativa a questo governo e siamo, credo, come la sinistra, un'alternativa credibile. Perché noi vogliamo l'Europa, si parla di elezioni europee, ma non certo l'Europa che fa il Jobs Act o l'Europa che fa la buona scuola o l'Europa che rende più precari i precari e che non protegge gli operai. Vogliamo invece un salario minimo europeo, un fondo di solidarietà per combattere le disuguaglianze. Soprattutto vogliamo un'Europa che si impegni per le classi operai, per i giovani, per il futuro, per la ricerca pubblica. Quindi penso che la sinistra possa giocare un ruolo importante anche nell'intercettare una buona quantità di voti delusi dalle promesse non mantenute dai 5 Stelle. Sai, parlano della questione morale, poi si alleano con la Lega di Siri e con la Lega di Siri si portano dietro quanti e quali amici. Mi pare una cosa indecente. Noi dobbiamo ripensare allo sviluppo per il Sud e alla riconversione ecologica perché solo partendo dalla finitezza, dalla vera contezza che abbiamo un solo pianeta, non ne abbiamo sette per produrre uno stile di vita non comparabile né non sostenibile allo stato attuale, possiamo ripensare un paradigma economico su cui costruire una economia sulla riconversione industriale che dia prosperità, benessere sul lavoro, in sicurezza. Dieci anni di crisi economica, spiegano, hanno reso più difficile la vita di milioni di persone, disoccupazione, lavoro precario e mal pagato, taglie all'istruzione, liste d'attesa infinite in sanità, mancati investimenti per la tutela dell'ambiente e contro il cambiamento climatico. In Europa, nel segno del liberismo e dell'austerity, sarebbero state fatte, spiegano, scelte sbagliate che hanno impoverito interi paesi a vantaggio dei poteri economici e della finanza speculativa, scelte gravi e impopolari, che avrebbero scatenato la guerra tra poveri e la destra peggiore, quella contro la libertà delle persone, quella contro la libertà delle donne, quella che non ha rispetto per la vita dei migranti. La loro presenza è davvero una grande opportunità, perché lasciano ogni anno 2 miliardi netti per l'economia, non solo, contribuiscono anche alla crescita demografica e non meritano di essere esclusi, anche perché ci conviene la loro presenza. Non è che lo facciamo perché per forza bisogna essere solidaristici. È veramente conveniente avere gli immigrati da tutti i punti di vista. Questo non vuol dire che le frontiere devono essere spalancate. In realtà appunto sono chiusi, ma la propaganda ci dice che le frontiere sono aperte, ci rubano il lavoro, violentano le nostre donne. Tutto questo naturalmente è falso. Noi abbiamo i dati, come dossier statistico di immigrazione, abbiamo i dati ufficiali dei ministeri, dalle agenzie europee e dalle agenzie dell'ONU.